Come ti senti? Cosa ti senti? Non c'è nulla, non c'è nulla. Hai giocato un giocatore, in particolare nella prima quattro e nella prima terza. Cosa succede nella quattro e in particolare nella quattro? Siamo arrivati bene, abbiamo controllato la prima terza. La quattro terza non è così bella. Siamo arrivati bene, e con una buona squadra, all'itica è per la loro squadra, e questo è quello che è stato fatto nel quattro, e hanno fatto una grande grande giocatore.